Gran parte della campagna elettorale a Roma del candidato sindaco del PD, il Renziano Roberto Giacchetti, che ha anche una lunga storia radicale alle spalle, è dedicata proprio ad incontri con militanti di quel partito, riuscire a riconquistare la fiducia perduta con l'inchiesta di Mafia Capitale e molti dirigenti che sono stati coinvolti e travolti da quelle vicende giudiziarie è già un successo. Sono quindi pochi gli incontri con la popolazione comune, con l'elettorato che non ha mai votato magari il Partito Democratico. Uno di questi è avvenuto al Trullo, uno dei quartieri quasi periferici della Capitale, dove ha incontrato i cittadini che gliele hanno cantate, le hanno cantate più che a lui, ai responsabili del PD di quel municipio e Giacchetti ha risposto sostanzialmente senza fare alcuna promessa. Ecco qualche flash di quell'incontro. Un giardino per i bimbi qui vicino e la sera i grandi ragazzi ci vanno a toccare a pallone, non è chiuso. Quanto deve durare questo? Cadono gli alberi? Aspettiamo i mesi! Vanno a fuoco gli alberi? Per chiarità dobbiamo chiamare i compieri e farci compito di vedere che cosa fanno. Non siamo tutelati da nessuno. Il progetto al di fuori degli alberi dove passano i figli dell'alta tensione. Il campetto che voi vorreste fare passa invece sui figli dell'alta tensione. Gli alberi non vengono copati, prendono a fuoco. Ce n'è uno che sta per cadere. Questi sono i problemi seri dei cosi. Io dico che i tradici, e questo l'avevo detto anche a lei, poi i cittadini di Roma si arrabbiano. Passano a fianco a un asilo nido e una scuola materna. Io ho detto, ringraziando Dio, non ho figli che mi vanno là dentro. Intanto, quando sono venuto un'altra volta, uno mi ha detto, ma non è che ora sei venuto per primarie e sparisci. Sono venuto per primarie, ora sono tornato per le secondarie e speriamo che posso tornare, avendo un senso che io torni magari anche dopo. Però intanto la mia prima è stato venuto proprio al Trullo. Ci siamo fatti il giro, siamo passati sotto l'elettrodotto, abbiamo il cinema, tutto. Addirittura mi ricordo il problema dei negozietti che vendono la frutta che si stanno prendendo tutta la parte fuori e mettono le cassette fino a 4 metri sopra. Vedi che mi ricordo? Beh. Voi state parlando del Trullo, 25 mila abitanti. Questo è un municipio, quello che al Ministro il Presidente Veloce, che se non sbaglio c'era più di 150 mila. ho scoperto l'altro giorno che ci sta il settimo municipio che supera i 300 mila e Dè, ha la stessa popolazione di Bonn. Altri municipi hanno popolazioni come questo che sono più grandi di città italiane. Se io dico domani, mi impegno entro tre mesi che toglieremo l'elettrodotto e tutto, è del tutto evidente che questo crea un'aspettativa. Poi io so perfettamente perché le ragioni le conosciamo, anche se è chiaro che io mi impegno subito l'impegno per vedere comunque che un tavolo con EFS e con Terna, almeno per ricominciare a capire come rimettere insieme le fila. Però sappiamo ragazzi, senza ci vediamo in giro, che questa non è una cosa che si risolve in 5 minuti. Però bisogna riprenderla. 20 anni, questo ti dimostra esattamente che evidentemente non è una cosa che si risolve in 5 minuti. Però prima noi non c'eravamo, amore mio, questo non te lo puoi prendere con noi. Io ti sto dicendo, siccome tu giustamente stai ponendo un problema e siccome giustamente i cittadini a un certo punto dicono a me non me ne frega niente di chi c'era prima, io ti dico capisco perfettamente che sono 20 anni, io posso prendermi in questo momento il compito non di dire magari come hanno fatto quelli 20 anni prima che dopo domani te lo risolvano, però di cercare di dirti che l'impegno a fare in modo che perlomeno ci si rimetta attorno a un tavolo e si sia in grado magari di dire entro quando e in che condizioni noi possiamo eliminare l'elettrodotto, io questo me lo pido. Poi potersi pure che io ti dica guarda da come stanno le cose, scordiamoci che questo problema si risolva nei prossimi giorni. 5 anni. Ma non lo dobbiamo decidere te, però adesso non faccio l'interlocutore, sto cercando di rispondere a tutti, ci siamo capiti? L'altro giorno ho sentito se non sbaglio la candidata sindaca che ha detto che il problema della movita in qualche modo è un problema di ordine pubblico che va risolto. Ma vi siete mai domandati perché esiste la movita? Cioè perché migliaia, decine di migliaia di ragazzi si spostano dalla periferia e vengono verso il centro e poi inevitabilmente si creano anche delle dinamiche da ordine pubblico? Ma semplicemente perché le nostre periferie sono lande desolate. Io sono convinto che se noi creassimo le condizioni per cui un ragazzo di Torbella Monaca, di Ponte di Nona, di di sette bagni, di non so dove, avesse sul suo territorio una scuola di teatro piuttosto che un concerto, piuttosto che un accordo con il teatro dell'opera per fare, il conservatorio di Santa Cecilia per fare oppure un concerto rock, perché se ci fosse qualcosa in base al quale il ragazzo di lì non è costretto a farsi 15 km per poter venire a divertirsi, io sono convinto che il ragazzo di Torbella Monaca verrebbe tranquillamente a Roma perché si va a vedere come è giusto che sia, come ci vado io e abito a Monteverde, la mostra alle scuderie del Curinale, si va a vedere i fori imperiali perché gli piace, ma è chiaro che noi abbiamo una tendenza a venire verso il centro perché le periferie sono abbandonate e desolate e se a me ne piove dentro casa, io perché devo pagare il canone? È chiaro che non gli posso dire c'è ragione, però è il serpente che si morde la coda perché è quello che dice tu non mi dai quello che dovresti dare e io non ti do quello che ti dovrei dare, allora intanto io per esempio ho detto che certamente aprirò un tavolo con il governo per chiedere semplicemente che possa essere rinegoziato il debito per gresso, i famosi 13 miliardi che ci troviamo alle spalle, sulle quali abbiamo anche qualche responsabilità nostra, ma sapete perché questo? Perché questo ci consente comunque poi sul bilancio di poter fare qualche piccola manovra, però non è solo questo perché io non posso solo chiedere al governo, io chiaramente chiedo al governo questo, ovviamente qualcuno subito, siccome questo non è funzionale alla campagna elettorale che deve essere fatta sempre in determinato modo, dice questo è voto di scambio, ora perché non glielo chiedi pure tu? non glielo chiedi pure tu? non glielo chiedi pure tu? Grazie a tutti.